Quando è accaduto Roberto Pesalini è inspiegabile? Uno che viene con i seppiedi all'ospedale a cercarsi di farsi aiutare e lo mettono con un codice giallo, lo lasciano un'ora e mezzo. Ma chi ha deciso il codice giallo? L'accettazione, lui lamentandoci, dicendo che non poteva respirare, dopo circa un'ora lo fanno entrare. Dentro la sala là dentro, o medici o infermieri, non lo so che erano quelli là dentro, non riescono neanche a farci una puntura, a capire cosa gli stava succedendo. Un'ora là dentro non sono riusciti, hanno chiamato i rianimatori, ma i rianimatori sono venuti dopo un'ora e qualcosa a vedere il decesso. E voi avete presentato regolare denuncia? Sì, perché non esiste, poi se ne sono andati tutti, sono scappati tutti. Ci hanno lasciato a noi là dentro con me. Mio fratello è ancora caldo, per me era vivo, hanno gettato la spugna subito, non l'ho capito quello che hanno fatto. Ma il suo fratello soffriva di qualche particolare... Ma ha avuto due giorni fa un po' di inizio di brunghite, è stato ricoverato. Dopo dei giorni l'hanno fatto uscire, perché dice che era a posto, doveva prenderlo una pillola alla mattina e una pillola alla sera. Che poi si regano all'ospedale. La figlia gli dice che è stato ricoverato due giorni, non capire loro cosa dovevano fare. Noi ci affidiamo a loro, siamo in una struttura ospedaliera, loro devono capire un po' quello che devono fare, perché noi siamo in ermi. E ora hanno fatto il possibile, un arresto cardiocircolatorio. Ma arresto cardiocircolatorio? Non si capisce la giustificazione di arresto cardiocircolatorio, ma da dove devi... C'è un'ora e mezza che io sono qua, due ore. Quanto pare il medico che c'era, non ci ha messo neanche in mano. C'è il problema all'invermiere. Io mi auguro che la magistratura faccia chiarezza su questa cosa. Perché oggi a me, domani è un altro, domani è un altro. Cioè questa è una cosa bruttissima. Il pronto soccorso dovrebbe essere una cosa che... Uno sai, quando arriva il pronto soccorso si sente mezzo salvo. Dire sono in mano dei professionisti, della gente che ci può aiutare. Cioè non può essere che una persona si rega all'ospedale e due ore muore. C'è una persona che ti parla, che ti parla, ti dice cosa si sente. Si sente, cioè non è che è arrivata una persona inconsciente. È arrivata una persona cosciente e parla con il medico. Aveva segni di defibrillazione, non aveva nessuna cosa. Cioè io penso che loro non sono stati in grado di... E siete stati voi a chiamare la polizia? Io l'ho chiamata la polizia, perché ho visto che se ne sono andati tutti. Cioè ci hanno lasciato a noi con mio fratello là, sulla barella. Cioè non... Io non... Sembra che sto sognando. Non è una cosa normale che vive una persona normale. Io voglio giustizia per i suoi figli, per sua moglie. Cioè questa è una vergogna. Siamo al 2015, cioè non si possono accettare queste cose. Mio cugnato ha avuto un infarto a 60 km e l'hanno salvato il 118, l'Ele Soccorso. C'è un infarto, c'è una persona che di ora ti discute e ha un infarto fulminante. Ma io secondo me c'era una squadra di equip che forse non dovrebbero stare a Panto Soccorso, forse dovrebbero stare in altri posti.